ha viaggiato anni luce attraverso lo spazio per trovare forme di vita intelligente John è tornato ma c'è un nuovo arrivo in città una piccola aliena ecco a voi Lula Lula Lai un po' milicina Lei è un po' curiosa Ma soprattutto lei è un po' persa Per riportarla indietro non basterà dire telefono casa Ma partire a razzo Un'avventura cosmica che vi porterà tutti quanti dalle stalle alle stelle Sean vita da pecora Farmageddon Il film L'invasione arriverà presto al cinema